Musica Signore e signori bentrovati e buona domenica in compagnia del TG6 La Settimana. Prosegue senza sosta la demolizione delle tre palazzine di via Lago di Borgiano a Pescara. Hanno partecipato, preso il cantiere, i componenti della giunta Masci per fare il punto sui lavori. Proseguono a Pescara senza sosta i lavori di abbattimento delle tre palazzine pericolanti di via Lago di Borgiano nel quartiere Rancitelli. Questa mattina gli operai hanno provveduto alla demolizione del tetto di uno dei tre stabili. Ai lavori ha presenziato l'assessore comunale Isabella Del Trecco. Un inizio di cantiere con un inizio di sgombero più che di demolizione. Questa mattina ci sarà una parte di demolizione vera e propria. Quindi cominceremo veramente a vedere con i nostri occhi un pezzo di fabbricato che va via e a seguire anche tutto il resto. Per far sì che si potrà dare ai residenti come giusto una piazza e uno spazio adeguati. Un esempio di vivibilità perché dovrà essere una piazza dove sicuramente ci sarà del verde ma dove ci sarà la possibilità di vivere, di confrontarsi e di passeggiare, di trascorrere del tempo. Quindi dei bambini agli anziani tutti avranno uno spazio e non tutto questo cemento per poter vivere in maniera sicuramente più sostenibile. Il presidente dell'Ater di Pescara, Mario Lattanzio, è entrato nel merito dei lavori parlando di tempi e costi. Entro tre mesi dovrebbero completarsi i lavori permettendo poi se ci sono interruzioni dovute non a cause normali. Nel senso è un lavoro particolare quindi può succedere di tutto. Spero di no, che si rispettano i tempi. Oggi inizia proprio la vera demolizione con la pinza, quindi si cominciano a smontare i solai e le varie travi, pilastri. E quindi questo sarà ripetuto poi anche sugli altri due edifici. Quindi è un lavoro che avrà il suo compimento tra i tre mesi che avevamo previsto per capitolato. I costi? Tutto il progetto è un milione e tre e cinquanta compreso di spese tecniche, IVA e i lavori. La società che si è aggiudicata la gara è di gubbio e quindi si stanno realizzando nella programmazione che avevamo previsto. Per Pescara penso che è una cosa positiva anche perché qui poi si crea una piazza al servizio di tutta la zona e si riqualificherà la zona stessa. 43 liste, 22 alla Camera e 21 al Senato saranno in competizione nella circoscrizione Abruzzo alle politiche del 25 settembre. Da quelle liste saranno eletti i 13 parlamentari che rappresenteranno il territorio abruzzese. Sono 43 le liste presentate ieri in Corte d'Appello all'Aquila e che, salvo parere negativo degli uffici elettorali, saranno in competizione in Abruzzo per le elezioni politiche del 25 settembre. 22 alla Camera dei Deputati, 21 al Senato poiché Forza Nuova ha presentato la lista solo alla Camera. Due le coalizioni, il centrosinistra con Partito Democratico, Impegno Civico, Sinistra Italiana Verdi e Più Europa. Il centrodestra con Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati. Lista unica per tutti gli altri competitors, Movimento 5 Stelle, il cosiddetto Terzo Polo, alleanza tra azione di calenda e Italia Viva, Unione Popolare, Italexit per l'Italia, Italia Sovrana e Popolare, Noi di Centro, Alternativa per l'Italia, Vita, PPA Pensiero e Azione, Sud Chiama Nord, Gile, Arancioni, Unione Cattolica Italiana, Forza del Popolo per Lillo Musso Premier, Partito Animalista e Forza Nuova. Dai 21 parlamentari del 2018 a seguito della riforma, ora l'Abruzzo ne eleggerà 13, 9 deputati e 4 senatori. Rivisti anche i collegi, 3 per l'uninominale alla Camera, L'Aquila Teramo, Pescara Costa Teramana e Chieti. Collegio unico Abruzzo per il proporzionale alla Camera e per uninominale e proporzionale al Senato. La circoscrizione Abruzzo eleggerà 3 deputati e un senatore con l'uninominale, 6 deputati e 3 senatori col proporzionale. Per gli elettori votare sarà semplice, basterà mettere una sola croce o sul simbolo del partito o sul nome del candidato all'uninominale, oppure due croci sul candidato e sul partito che lo sostiene o, nel caso di una coalizione, su uno dei partiti che la compongono. Non sarà valida la scheda nella quale c'è una croce su un candidato uninominale e una su un partito che non lo sostiene. Circa i collegi uninominali risulteranno eletti i candidati associati alla coalizione o lista che avrà preso più voti. Alla Camera, collegio di L'Aquila Teramo, si sfidano tra gli altri la sindacalista Rita Innocenzi per il centrosinistra, la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni per il centrodestra, Attilio D'Andrea per il Movimento 5 Stelle e Manuela Pistoia per il terzo polo. Al collegio Pescara Costa Teramana, l'ex sindaco di Spoltore, Luciano Di Lorito per il centrosinistra, il capogruppo di Fratelli d'Italia in Regione, Guarino Testa, Daniele Caruso per il Movimento 5 Stelle, Roberto Quercia per il terzo polo. Per il collegio di Chieti, Elisabetta Merlino del PD per il centrosinistra, il senatore uscente della Lega, Alberto Bagnai per il centrodestra, la deputata uscente Carmela Grippa per il Movimento 5 Stelle, Gaetano Luigi Fuliano per il terzo polo. Al senato, nel collegio uninominale, la sfida è, tra gli altri, fra Massimo Carugno, della segreteria del PSI per il centrosinistra, l'assessore regionale al bilancio, Guido Liris per il centrodestra, Isidoro Malandra del Movimento 5 Stelle e l'ex presidente di TUA, Gianfranco Giuliente, per il terzo polo. Per il proporzionale si attingerà dai listini bloccati presentati dai vari partiti in base alle percentuali riportate su scala nazionale dai partiti stessi e il complesso gioco dei resti da valutare a livello nazionale per la Camera e su base regionale al Senato. Nel centrodestra sembrano sicuri di un posto il capolista Fabio Roscani e Rachele Silvestri di Fratelli d'Italia, la quale, candidata anche in altri collegi, potrebbe lasciare il seggio abruzzese al sindaco di Fara San Martino, Antonio Tavani, Luigi Deramo, capolista della Lega, buone possibilità per Nazario Pagano di Forza Italia, nel centrosinistra blindato il seggio per il capolista del PD, Luciano D'Alfonso, spera dietro di lui Stefania Di Padova, assessore comunale di Teramo, pronti a giocarsela la deputata uscente Daniela Torto dei 5 Stelle e il leader di azione in Abruzzo, Giulio Sottanelli. In competizione anche il segretario di Rifondazione, Maurizio Acerbo, capolista di Unione Popolare. Al Senato i favoriti per i tre seggi sembrano Etel Sigismondi, coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, il capogruppo della Lega in Regione, Vincenzo Dincecco, e il segretario regionale del PD, Michele Fina. Se la giocheranno per strappare un seggio altri capolista, il presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, di Forza Italia, la senatrice uscente Gabriella Di Girolamo dei 5 Stelle e il deputato uscente di Italia Viva Camillo D'Alessandro per il Terzo Polo. Sullo spostamento a Pescara del 118 Teatino c'è preoccupazione e disenso da parte della minoranza al comune di Chieti. Anche nella maggioranza c'è chi lo giudica un errore contro, qui l'amministrazione attuale non poteva più nulla. All'indomani della nota congiunta delle due liste Chieti c'è e Chiama Chieti, la polemica imperversa sull'accorpamento del 118 di Chieti a quello di Pescara. In realtà la vostra posizione oggi qual è? Noi del Polo Civico come gruppi consigliari di Chiama Chieti e Chieti c'è abbiamo ritenuto opportuno intervenire con una nota e precisare che seppur vero che l'amministrazione comunale nulla poteva su una decisione presa nel 2018 dalla giunta di centrosinistra con la Saga e con le aziende sanitarie locali del territorio l'amministrazione non avrebbe potuto far nulla d'altro canto non si può però giustificare quella che è l'ennesima espogliazione alla città di Chieti perché seppur vero che gli accorpamenti ormai sono una necessità in Italia è altrettanto vero che nella regione Abruzzo l'accorpamento tra Chieti e Pescara vengono fatti sempre togliendo qualcosa a Chieti e lasciandolo a Pescara. Per spostare l'Hub a San Buceto, l'aeroporto, sono stati spesi più di un milione di euro per ristrutturare l'hangar e ci sarà una spesa notevolissima per gli affitti quando comunque a Chieti avevamo nel Policlinico 300 metri quadri a disposizione e soprattutto una struttura perfettamente agibile. Tra l'altro la cosa che preoccupa di più è che diciamo che questo può essere un parametro che in futuro può essere importante sulla decisione del dia di secondo livello che oggi in Abruzzo non c'è, il Ministero ha fatto presente che dovrà essere prima o poi disegnato e non avendo le credenziali nessuna delle due tra Chieti e Pescara purtroppo ha già indicato che potrebbe andare a chi ha più Ab. In questo caso ne abbiamo perso uno e questo punto è stato completamente dimenticato. Dobbiamo anche ricordare che seppur vero che è stata una decisione voluta dal governo regionale di centrosinistra è tanto vero che quello di centrodestra che subito dopo si è insedato nel proprio DFR l'ha confermato. Non risultano andando a spulciare tra le carte, non risulta nessun atto da parte di chi dovrebbe rappresentare Chieti in regione che oggi ne fa propaganda politica e si è svegliato su questo argomento ma sarebbero loro che dovrebbero darci delle risposte. In realtà noi non abbiamo nessun emendamento, non troviamo nessuna proposta di revoca quindi sarebbe il caso di cambiare i toni, riportare la palla al centro e ricordare che nel 2018 è stato commesso un errore è stato commesso l'ennesimo torto alla città di Chieti, città di Chieti che però non si può permettere di giustificare. Tappa abruzzese martedì del tour elettorale per il leader della Lega Matteo Salvini che è stato a Giulianova accolto dal sindaco Costantini e dai candidati in Abruzzo del Carroccio. Azzerare la legge Fornero e Flattax al 15% gli obiettivi per la campagna elettorale. Reduce dal meeting di Rimini che ha ospitato tutti i leader politici italiani Matteo Salvini, segretario federale della Lega Nord è arrivato a fine serata a Giulianova dove al Nuova Vita Beach ha incontrato amministratori e simpatizzanti abruzzesi. Ad accoglierlo il sindaco leghista del comune riverasco Ivan Costantini insieme al coordinatore regionale abruzzese della Lega Luigi Deramo e Vincenzo Dincecco capogruppo alla regione, entrambi candidati in questa tornata elettorale rispettivamente alla Camera e al Senato. Salvini prima di concedersi al suo pubblico plaudente ha incontrato la stampa rispondendo a domande sull'economia dell'Abruzzo, la linea politica della Lega sulla guerra la litigiosità della coalizione di centrodestra nei territori. Proponiamo quello che in parte abbiamo già fatto, la flat tax, la tassa piatta semplice al 15% da estendere ai 2 milioni di partitaive che oggi ce l'hanno, alle imprese e alle famiglie ovviamente a partire da chi guadagna di meno e fattura di meno. L'azzeramento della legge Fornero che manda in pensione un milione di lavoratrici e lavoratori nei prossimi anni e permette alle aziende di assumere lavoratori giovani la pace fiscale la rotamazione dei cartelli dell'agenzia delle entrate e la revisione del reddito di cittadinanza. La Lega ha votato in Italia e in Europa qualunque tipo di aiuto all'Ucraina semplicemente dopo mesi di sanzioni i numeri dicono che non stanno fermando la guerra e non stanno mettendo in ginocchio la Russia e quindi io faccio qualcosa che serve anzi sono le imprese italiane che rischiano di pagare queste sanzioni quindi sarebbe il primo caso nella storia in cui quello che viene sanzionato ci guadagna e quello che mette le sanzioni ci perde. Bisogna provare in tutti i modi a fermare questa guerra. Cosa da dire ai gestori degli stabilimenti? Che con i decreti attuativi che farà il nuovo governo si possono tutelare tutti. Se si stabilisce il valore aziendale conguro per ogni balneare che volesse lasciare il posto e si stabilisce la prelazione per chi campa di questo lavoro abbiamo reso un ottimo servizio a 30.000 aziende. Centrodestra è compatto, governa 14 regioni su 20, a sinistra queste politiche ho perso il conto di quanti candidati abbiano. Noi facciamo della compattezza e dell'unione un nostro valore aggiunto. Sin dal primo pomeriggio le forze dell'ordine, in particolare la Digos hanno presidiato il lungomare Zara di Giulianova per evitare incidenti e proteste pericolose dopo che due giorni fa era apparso proprio davanti al Nuova Vita uno striscione offensivo nei confronti del leader leghista. Ma il colpo di scena c'è stato e come, a sorpresa, a traffico bloccato, proprio sul lungomare è transitato il trenino turistico che non trasportava bambini ma decine di dissidenti che hanno urlato di tutto. La Lega ha scelto candidati abruzzesi per questa tornata elettorale. Una cosa particolare? L'Onorevole Deramo, che è anche coordinatore regionale, ha sempre tenuto in formato i coordinatori provinciali, ha sempre voluto delle scelte territoriali, ha sempre fatto dei ragionamenti logici insieme a noi ma soprattutto insieme a Matteo Salvini, che dobbiamo ringraziare perché lui non mette catapultati come hanno fatto altri partiti. L'Abruzzo avrà una sua realtà, avrà una sua rappresentanza e avrà degli amministratori sicuramente che potranno fare il bene del nostro territorio. L'Arta Abruzzo ha reso noti i risultati di ulteriori analisi effettuate nel fiume Pescara dove nei giorni scorsi si era verificato uno sversamento di idrocarburi ma dopo i controlli non c'è preoccupazione per i valori delle acque del mare. L'Arta Abruzzo, sin dai primissimi momenti dopo lo sversamento nel fiume Pescara, si è messa al lavoro, avete analizzato campioni d'acqua del fiume. In più punti e in più giorni cosa è venuto fuori? Che nel luogo dove si è verificato lo sversamento, ovviamente i valori erano alti ed erano alti con riferimento a degli idrocarburi, quindi gasolio e altri oli pesanti. Ma la nostra grande preoccupazione era di capire fino a quando e in quale misura questo sversamento potesse anche riguardare il mare e conseguentemente la qualità delle acque di balneazione. Abbiamo effettuato quindi dei prelievi anche in prossimità della foce del fiume sia a nord che a sud, quindi riguardando il mare, con riferimento al mare, e grazie a Dio abbiamo potuto scongiurare l'ipotesi di un interessamento anche della qualità delle acque di balneazione. Direttore, si può parlare a questo punto di allarme rientrato? È un allarme rientrato, ma rimane il fatto di un gesto gravissimo compiuto da persone che saranno in corso di accertamento da parte delle autorità competenti che ha immesso nel porto canale di Pescara sostanze altamente inquinanti. Resta questa bella notizia che il mare della bandiera blu di Pescara non sia stato interessato da questo sversamento? Grazie a Dio i rapporti di diluizione, anche la quantità delle sostanze inquinanti dolosamente immesse nel porto canale non sono state tali da coinvolgere, come posso dire, da pregiudicare la qualità delle acque di balneazione. C'è stata per chiudere un'importante sinergia Artabruzzo-Direzione Marittima-Comune di Pescara. Una volta arrivato l'allarme si è subito passato ai fatti. Non solo c'è stata questa sinergia, ma vorrei ricordare che ci troviamo nel pieno di una stagione come Balneare, che quindi è il mese d'agosto. Nonostante questo, fin dalle prime, non direi neanche ore, fin dai primi minuti c'è stata subito un'immediata attivazione da parte dei tecnici di Arta che taluni anche ragionevolmente per il periodo magari non erano nella disponibilità del lente, ma si sono resi tutti quanti, con un grande sforzo organizzativo, disponibili per poter prendersi cura, veramente il caso di dire, del mare di Pescara e dell'Abruzzo intero. Entro 120 giorni lo Stato dovrà versare nelle casse dell'azienda Rockhopper 190 milioni di euro. E' l'esito dell'arbitrato sulla vicenda Obrina Mare. Lo Stato italiano ha perso l'arbitrato con la società inglese Rockhopper ed è stato condannato a pagare 190 milioni di euro alla multinazionale che a largo della costa dei Trabocchi avrebbe voluto sviluppare il progetto di estrazione petrolifera noto come Obrina Mare, che però fu sventato per la ferma opposizione e insistente battaglia delle associazioni ambientaliste e dei cittadini delle località interessate che non avrebbero voluto vedere deturpata una location tra le più suggestive d'Abruzzo. Proprio il primo agosto 2016 gli ambientalisti si ritrovarono su un trabocco per brindare alla fine di Obrina. Oggi però c'è un conto salato da pagare, come ha reso noto ieri una delle figure in prima linea per questa battaglia, la docente universitaria Maria Rita Dorsogna che punta il dito contro i tre arbitri che hanno preso la decisione motivata dal fatto che l'Italia ha violato un trattato, l'Energy Charter Treaty. Se da un lato ride Sam Moody, il CEO della Rockhopper, cui lo Stato deve quella ingente somma entro appena 120 giorni, dall'altro la Dorsogna rivendica il fatto che l'Abruzzo è stato salvato dalle trivelle, mentre dal WWF arriva un appello, anche se i margini sono molto stretti, affinché le istituzioni italiane impugnino la decisione. Il Centro per le controversie ha ritenuto che l'Italia avesse violato il trattato sulla carta dell'energia che il nostro Stato aveva firmato nel 1994. L'Italia è uscita da questo trattato nel 2015, ma è ancora soggetta a mantenerne alcune condizioni. Già ricordiamo che con la legge di stabilità del 2016, lo Stato italiano aveva di fatto vietato la ricerca di idrocarburi entro le 12 miglia dalla costa. Da quello che si legge nel comunicato stampa della stessa società, lo Stato italiano ha 120 giorni per poter opporsi a questa decisione. Ci auguriamo che lo Stato lo faccia e che accolga la volontà del territorio, la decisione presa dagli enti territoriali di andare contro questi progetti che tra l'altro ormai sono obsoleti e dobbiamo guardare all'uscita dal fossile, quindi puntare su impianti che riguardino le energie rinnovabili. Adesso è davvero finita. Anche il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso di Teramo e Campobasso che chiedevano la riammissione in Lega Pro, un epilogo prevedibile e che impone adesso un percorso nuovo da avviare in fretta. Adesso è finita per davvero. Anche il Consiglio di Stato ha respinto i ricorsi di Teramo e Campobasso che chiedevano la riammissione al campionato di Lega Pro. Decisione arrivata in mattinata, come nelle previsioni, ma peggiori di quanto, in discrezioni di ieri, lasciavano trasparire una sconfitta l'ennesima. Su una linea che fosse passata, avrebbe rimesso in discussione l'intero sistema di rilascio delle licenze nazionali. La partita, in verità, è sempre stata molto, troppo complicata. Per il Teramo, più che per il Campobasso, certo, ma in questo caso i molisani, vincendo, avrebbero aperto la strada alla discussione sul metodo, oltre che sul merito. E avrebbero indirettamente fatto un favore anche al diavolo che sul mancato rispetto dell'indice di liquidità e altre criticità sollevate dalla Covisoc avevano visto incagliare il proprio futuro. Da questo momento in poi, invece, non ci sono più gradi di giudizio per provare a far valere le proprie ragioni. E di conseguenza, da adesso, si apre ufficialmente la partita per il futuro delle due squadre. Il Teramo vedrà svincolati i tesserati sotto contratto e oggi pomeriggio la Lega Pro, uscita ammaccata prima, ma ora rafforzata dai tempi dilatati, alle 18 varierà i calendari che sarebbero già dovuti essere compilati qualche giorno fa. Ora, il sindaco D'Alberto dovrà accelerare nell'iter, che dovrà portare almeno alla richiesta di una partecipazione in sovranumero in serie D. L'altro giorno, l'ok della commissione alla SS di Città di Teramo, società costituita con questa finalità, passaggio propedeutico al piano di emergenza che va davvero messo in atto ora. Senza perdere altro tempo, visto che si avvicina a settembre e non c'è nulla da attendere. Anzi, finora, visti i risultati, se ne è perso molto di tempo. Quello che oggi servirebbe come il pane, da questo momento si deve correre. Cosa resta però di tutta questa vicenda? Amarezza da parte delle tifoserie, certo, ma anche la consapevolezza che il sistema delle licenze, una volta accettato dai partecipanti, regge fino all'ultimo grado. Che non abbia asterischi ovvio di fuga. Ed è questo l'elemento su cui si fondava la resistenza della Federcalcio. Si parla da anni di riforme, ma sarebbero un'utopia senza la certezza che le regole, messe alla prova, tengano nei vari gradi. Il Tar prima e il Consiglio di Stato poi, chiamate in causa come troppo spesso nell'alveo del calcio italiano, hanno confermato quello che gli organi di giustizia sportiva avevano sancito. E la giustizia amministrativa ora ha dato sostanza nel merito ad un percorso di valutazioni e sanzioni da parte di Covizoc, Consiglio federale e Collegio di Garanzia del CONI. Se l'impianto, come è stato, tiene, allora uscire dal solco del procedimento sportivo diventerà in futuro meno incentivante. Ma questo a Teramo e Campobasso oggi importa come è ovvio. Molto poco ora le attende una rincorsa al campionato migliore possibile, chiudendo pagine recenti che adesso non possono più essere riaperte. Nazario Pagano alla Camera e Lorenzo Sospiri al Senato sono i capilista in Abruzzo di Forza Italia che punta sul gioco di squadra per la loro elezione in Parlamento. Sabato è stata la presentazione dei candidati nelle due liste. Una rosa di candidati tutta abruzzese, un aspetto che ha voluto più volte rimarcare stamani il coordinatore regionale e senatore uscente Nazario Pagano nel corso della presentazione delle liste di Forza Italia. Alla Camera, con lo stesso Pagano capolista, vi sono poi l'imprenditrice di Crognaletto, Francesca Persia, il consigliere regionale del Movimento Federato Valore Abruzzo, Simone Angelosante, e il sindaco di Palombaro, Consuelo Di Martino. Nel listino del Senato capolista è il presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, seguito dalla consigliere comunale dell'Aquila, Maria Luisa Ianni, e dall'assessore regionale, Daniele Damario. Era la squadra che io avevo in mente, quella che poi sono riuscito, in accordo con il coordinamento nazionale del mio partito, a mettere in campo. Non abbiamo dei paracadutati, abbiamo gente che fa politica sul territorio da tanti anni e pensiamo che possa rappresentare una vera garanzia e una prospettiva di speranza di crescere per tutta la regione in Parlamento. Io penso che gli abruzzesi questo lo capiranno e fanno di tutto per mandarci in Parlamento. Gente che conosce il territorio e io penso che questa sia una garanzia per chi deve votare per noi, perché quando si vota per le elezioni politiche non si vota solo per il simbolo, ma si deve assolutamente tornare a votare anche per le persone. In Abruzzo Forza Italia punta a mandare i due capilista in Parlamento. Tra i moderati azzurri si respira rinnovato entusiasmo per una campagna elettorale che, secondo il candidato al Senato Sospiri, porterà a una importante performance. Forza Italia è su percentuali superiori alla media nazionale del partito. Forza Italia sarà la seconda forza del centrodestra e la terza in Abruzzo, certamente. Il mantenimento della nostra rete sanitaria, tra virgolette, pinore dipende dalla modifica corretta di un DM nazionale, si chiama DM 70. Non è pensabile che la terza corsia delle nostre autostrade termini con le marche. non è pensabile che non si possa discutere di un tracciato corretto e complessivo della Pescara-Roma. Ferrovia, pensi al problema dell'autostrade A24 e A25 e al tema dei tribunali che dovrebbero chiudere, questo non deve avvenire. Gli ho fatto alcuni esempi di situazioni che in un Parlamento così ristretto dei parlamentari preparati e molto convinti delle proprie ragioni possono aiutare la regione a risolvere. Adesso cambiamo argomento, parliamo di sport, calcio. Dopo l'esclusione della Lega Pro per il Teramo è tempo di pensare al futuro. Ma la strada che porta alla Serie D è tutt'altro che scontata. Per questo il rischio è di cadere molto più in basso. Vediamo il servizio. Sfumata la Serie C, ma questa era tutt'altro che una sorpresa, a Teramo ci si interroga su quale sarà la categoria da cui ripartire. Era il pomeriggio, l'amministrazione comunale, e il sindaco Giacomito D'Alberto. Nel prendere atto dell'ordinanza ha già espresso, grazie al lavoro svolto dalla Commissione nei giorni scorsi, una valutazione di accreditamento positiva, si legge, circa il progetto della nuova SS di Città di Teramo, a cui hanno contribuito circa 40 imprenditori teramani. Questo è quanto si legge nella nota che precisa come resta inteso che ogni decisione finale è devoluta alla FIGC, ai sensi dell'articolo 52,10 delle NOIF, alla quale unicamente compete l'esercizio della facoltà di ammettere il luogo della società esclusa una nuova società ai fini della partecipazione al campionato anche in sovrannumero di Serie D. Ma la strada per la quarta serie non è così semplice, posto che solo all'organo federale spetta la scelta e che in passato mai si era arrivati a fine agosto con questa situazione. È evidente che è stato perso tempo che oggi sarebbe stato utilissimo, posta alla legittimità di provare a far valere in ogni sede le proprie ragioni. Ma adesso c'è da fare i conti con la realtà e quella attuale dice che in eccellenza non ci sarà certamente spazio. In Serie D la questione è quantomeno complessa e i rapporti con gli organi federali e ai minimi storici. Ed ecco allora che dinanzi al diavolo potrebbero spalancarsi le porte di un campionato molto più in basso. Nessuno oggi può dire con assoluta certezza quale sarà la fine di questa vicenda. Anche la LND che già aveva a che fare con un numero superiore a quante se ne aspettasse di squadre aveva lasciato intendere che l'automatismo no Serie C quindi Serie D non era così giusto. Per questo servirà la diplomazia del primo cittadino ammesso che basti per evitare il baratro della prima categoria. A meno che non si voglia ripartire dal campionato di promozione ad esempio con il piano della lenta ma questo è un altro discorso perché di margini per la quarta serie ce ne sono pochi e chi ha sperato nei ricorsi sperando che poi in ogni caso ci sarebbe stato un paracaduto e una caduta discretamente comoda come il Girona F di Serie D evidentemente si sbagliava e non di poco. Teramo Calcio 1913 che tuttavia vedrà iscritta al proprio campionato alla squadra femminile ma è evidente che le attenzioni sono concentrate sul futuro del calcio bianco-rosso maschile. Nel frattempo c'è stato lo svincolo dei tesserati coloro che erano sotto contratto e non avevano trovato altra squadra ora sono liberi. Il progetto è tutto da costruire ma prima va individuato il luogo che nello specifico è la categoria di appartenenza e non è affatto un dettaglio. Venerdì pomeriggio sono stati sorteggiati i calendari di Serie C dopo il ricorso respinti di Teramo e Campobasso Lega Pro che ha una sola abruzzese il Pescara vediamo quale sarà il cammino dei Biancazzurri E' un inizio in salita quello che aspetta il Pescara per i Biancazzurri c'è subito un match probante il campionato inizierà il 4 settembre all'Adriatico Cornacchia contro l'Avellino Delfino subito contro il fresco ex il Lanes mentre non ci sarà il neo Biancazzurro Aloi arrivato proprio dagli Irpini infortunato e squalificato per la prima improbabile la presenza degli altri ex nelle fila degli Irpini Riccardo Magnero e Gennaro Scognamiglio sono sul mercato e potrebbero partire entro fine mese la prima trasferta domenica 11 settembre alla Francioni di Latina contro la squadra del DS abruzzese Marcello Di Giuseppe che ha pescato dall'Abruzzo l'ex attaccante del Chieti Luca Fabrizi e giorni fa ha acquistato un altro attaccante Margiotta alla terza giornata un'altra biga l'Adriatico l'appena retrocesso Crotone di un altro ex Franco Lerda tra le candidate ad un campionato di vertice alla quarta giornata Pescara di scena a Viterbo e poi seconda trasferta consecutiva e altro big match quinta giornata il 25 settembre un altro election day allo stadio Zaccheria Foggia Pescara Sì direi che l'inizio in casa è stimolante sia per per giocare all'Adriatico sia per gli avversari perché tra la prima e la terza giornata abbiamo già due big del girone e chiaramente poi anche tutti gli avversari in questo inizio di campionato dove le squadre potrebbero non essere al cento per cento sono insidiose come potremmo avere tutte le possibilità di giocarci le nostre carte in questo momento noi abbiamo bisogno di trovare la nostra identità e soprattutto c'è la curiosità di vedere la squadra all'opera in competizioni ufficiali per come può reagire anche dal punto di vista della pressione e delle reazioni alla partita vera con questa notizia termina l'edizione del TG6 la settimana grazie di averci seguito buon proseguimento grazie a tutti grazie a tutti Autore dei sorrisi